cerchio dei lupi perché fare parte del cerchio dei lupi perché vuole dire ricevere le informazioni utili da poter usufruire per conoscere meglio te stesso e il tuo cane ed essere felici insieme perché un luogo sicuro e di utilità e comprensione dove puoi approfondire i corsi online se li hai già visti fare domande e ricevere esostive risposte approfondire argomenti specifici di comunicazione relazione educazione cura fare chiarezza se ti senti confuso per le troppe informazioni che ricevi tutti i giorni sui vari social se condividi la vita con un cane senti di avere il bisogno di essere aiutato supportato se stai pensando ad un'adozione e vuoi essere preparato per il suo arrivo questi sono soltanto alcuni esempi di domande che possono risolvere un tuo problema una tua esigenza il cerchio dei lupi adatto per te che vuoi conoscere nel profondo il cane lupo cecoslovacco carismatico ma a volte complesso da comprendere con le sue mille sfaccettature che sicuramente mette in atto con disinvoltura essendo il suo modo unico per conoscerti nel profondo e metterti alla prova attraverso una quota mensile la possibilità di stare insieme a un gruppo di pari dove potrai sentirti protetto accolto aiutato nel percorso col tuo cane senza essere mai solo abbandonato a te stesso al momento della tua richiesta che puoi scrivere a info il canelupo cecoslovacco.it ti verrà inviato via mail un questionario conoscitivo per candidarti dove attraverso delle domande iniziamo a conoscerci e comprendere se il cerchio dei lupi fa veramente al caso tuo il cerchio dei lupi è un incontro mensile che dà la possibilità di entrare a fare parte della community branco famiglia cosmo daniele lit l'incontro è condotto da me personalmente alcune volte con l'approfondimento di vari argomenti specifici che verranno valutati anche insieme ad alcuni professionisti di settore un incontro mensile dove puoi comprendere chiari ridubbi e ricevere esaustive risposte alle tue domande su argomenti che ti stanno a cuore e che puoi risolvere per educare gestire comprendere sempre meglio come comunica e a che ruolo sociale appartiene tuo cane rinforzando sempre di più la vostra relazione il collegamento il cerchio dei lupi si svolge su piattaforma zoom dove puoi collegarti attraverso un link inviato via mail qualche ora prima dell'incontro questo ci permetterà di conoscerci meglio approfondire vari argomenti con la possibilità di fare domande dirette di stare insieme un gruppo di pari dove potrai sentirti protetto accolto aiutato nel tuo percorso di crescita col tuo cane e cosa molto importante mai solo è abbandonato a te stesso se vuoi fare parte del cerchio dei lupi perché pensi possa esserti utile fai la tua richiesta scrivi a info il cane lupo secoslovacco.it sarò felice di darti il benvenuto con ulteriori informazioni dettagliate sulle opportunità di anche alcuni sconti di cui potrai usufruire grazie meraviglioso saluto lupesco da daniera sotti